L'esclusione di diverse zone e la riduzione dell'80% degli oneri di urbanizzazione per chi demolisce e ricostruisce un fabbricato sono gli aspetti più rilevanti dell'applicazione del piano casa a Clusone. Il Consiglio Comunale ha recepito la legge regionale nel corso dell'ultima seduta. Dalla normativa sono stati esclusi il centro storico, le ville a sud dell'Oratorio, la fascia ridosso di Viale Gusmini, le adiacenze di Piazza della Rocca, l'area est dell'ex ospedale San Biagio, gli edifici pubblici e le zone a destinazione alberghiera e produttive. Lo sconto su oneri e costo di costruzione è stato però giudicato eccessivo dei consiglieri della lista civica d'opposizione, soprattutto in considerazione dei molti programmi integrati di intervento attualmente sul tavolo dell'amministrazione, ha detto Paolo Olini. L'assessore all'urbanistica Bortolo Balduzzi ha sottolineato come la riduzione serve a incentivare la riqualificazione statica ed energetica degli edifici e precisato che sono esclusi i fabbricati soggetti a programmi integrati. A favore della delibera hanno votato la maggioranza il consigliere indipendente Francesco Moioli, se invece astenuta l'opposizione. Il Consiglio Comunale ha dato anche il primo via libera necessario all'intervento di ristrutturazione della capanna Ilaria proposto dalla sezione Cairino Olmo. La struttura diventerà un rifugio alpino con circa 24 posti letto. Durante la discussione è stato sollevato il nodo della strada d'accesso, Un problema che secondo l'assessore Balduzzi si potrebbe risolvere pensando a un recupero per soli fini di servizio dell'attuale tracciato che collega Pianone alla forcella larga. Un impegno preciso a realizzare la strada sul versante clusonese, non da Gandino, è stato chiesto dai consiglieri Sergio Giudici e Francesco Moioli. Su proposta del sindaco Guido Giudici, in delibera è stato inserito un passaggio in cui il Consiglio impegna la Giunta a mettere in atto, anche con mezzi propri, tutte le iniziative per la realizzazione di una strada di servizio. Il via libera è quindi arrivato all'unanimità. Grazie Grazie Grazie